Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno a tutti. È venerdì. Meloni abbraccia il pragmatismo e rilancia le trivellazioni a gas in Italia. Questa mattina parto dalla Spagna con l'articolo che Abessé dedica alla svolta di Fratelli d'Italia sulle trivelle. Fratelli d'Italia che al referendum del 2016 era per sospendere le estrazioni sotto il mare. Referendum che, lo ricorderete, terminò con un nulla di fatto, il quorum non ci fu, ma del cui esito prese nota il Parlamento che nello stesso anno non rinnovò più le licenze alle società di trivellazioni, cosa che peraltro aprì parecchi contenziosi e ci costò un sacco di soldi. Ora però gli scenari politici sono cambiati, fare affidamento sulle importazioni dalla Russia non è più possibile e allora, dice oggi la Premier, abbiamo il dovere di valorizzare al massimo i giacimenti di gas dei nostri mari, alzare una barriera all'energia costosa e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e della produzione nazionale. Una svolta di 180 gradi, ma in politica si fa questo e l'altro. Per cui, visto che la pratica era già stata avviata dal governo Draghi, Meloni si prende all'ex ministro Cingolani, che peraltro non le chiede un euro, e riapre alla possibilità di succhiare gas anche a meno delle 12 miglia dalla costa, che sono una ventina di chilometri. Resteranno proibite le estrazioni sopra il 45esimo parallelo, ovvero sopra il delta del Po per non mettere sotto stress i già fragili fondali attorno a Venezia. I tecnici stimano che con queste nuove aperture l'Italia estrarrà nei prossimi anni circa 15 mila milioni di metri cubi di gas in più all'anno, quasi il 6% del fabbisogno complessivo annuale, e escludendo l'alto adriatico, le aree candidate per maggiori estrazioni sono il medio adriatico e il canale di Sicilia. Dati del vecchio ministero della transizione ecologica stimano che nel sottosuolo italiano, tra mare e terra, ci siano 112 milioni di metri cubi di metano concentrati soprattutto al sud. Le perforazioni interessano tuttavia 15 delle 20 regioni italiane, e il 70% delle estrazioni sono oggi gestite dalla multinazionale italiana Eni, oltre che dall'olandese Royal Dutch Shell. Il governo italiano, sempre per rimanere in tema, è pronto a nazionalizzare le raffinerie della russa Lukoil in Sicilia, e Reuters a scriverlo rilanciando a livello internazionale la rivelazione di Repubblica, e scrivendo che con l'entrata in vigore il 5 dicembre prossimo dell'embargo europeo sul petrolio russo trasportato via mare, Roma cerca di tenere operativo l'impianto ISAB, evitando così le ricadute sui posti di lavoro. ISAB raffina un quinto del greggio italiano e impiega circa mille addetti. Con l'acquisizione da parte dello Stato della gestione, l'impianto potrà evitare lo stop. Reuters è precisa però di non avere ricevuto conferme dal Ministero dell'Industria. Lo avrà pure scritto Repubblica, ma la telefonata al Ministero, giustamente l'hanno fatta. Cambiando argomento, parlando di turismo, Forbes, non di turismo, di qualità della vita nelle città. Chiedo scusa, Forbes, prestigiosa rivista americana, dedica un servizio alle migliori città in cui vivere per chi decida di trasferirsi dall'estero. I criteri di valutazione vertono su carriera, vita sociale e sicurezza. E mentre la Spagna si colloca ai primissimi posti in assoluto, con città come Valencia o Madrid, considerate ottime per qualità della vita, trasporti pubblici e convenienza economica, noi siamo ultimi. Ultimi senza scampo con Roma e Milano. Milano è stata criticata dagli expat che vi ci sono trasferiti per i ritmi di lavoro massacranti, oltretutto non pagati in modo adeguato. Piace il clima, ma assolutamente no la qualità dell'aria. A Milano il reddito disponibile non ti consente di vivere con gli agi considerati minimi dagli expat. E poi Roma. Roma che non ti permette di migliorare le prospettive di carriera, che ha servizi amministrativi più che discutibili e un sistema digitale ancora più discutibile. Unico aspetto considerato positivo della Capitale è stata la facilità di insediamento. Oltre a queste indagini su 12.000 expat, Forbes cita poi la classifica annuale del sole 24 ore, dalla quale risulta che le piccole città del nord sono le migliori. Piacenza è in assoluto la migliore per i giovani. Cagliari invece è prima per la popolazione anziana con una aspettativa di vita stellare. Lancia riparte dall'elettrico. The Verge, network statunitense All News, riporta che la casa automobilistica italiana di proprietà di Stellantis, sarà uno dei marchi leader nell'auto elettrica. Tra il 2024 e il 2028 arriveranno una nuova Y, una nuova Delta e una nuova Ammiraglia ancora senza nome. Per il marchio ho atteso anche un nuovo logo che sarà l'ottavo nei suoi 116 anni di storia e si rifarà al design del 1957. Il piano prevede che entro il 2028 Lancia venda solo veicoli elettrici, ma come osserva Electrek, oggi l'azienda vende una sola auto, la Ypsilon, sull'unico mercato l'Italia. Pertanto non sarà difficile eliminare gradualmente dal mercato i suoi motori a combustione. Per finire, pioggia di contravvenzioni stradali italiane per gli automobilisti stranieri dopo che lo Stato italiano ha incaricato la società Nivi di riscuotere migliaia di sospesi all'estero, soprattutto per pedaggi stradali non riscossi. Ne sta parlando un sito belga, in quanto la Nivi ha recentemente siglato un accordo col governo di Bruxelles che permette di risalire ai proprietari delle automobili tramite il numero di targa e sta letteralmente inondando a pioggia gli automobilisti belgi che sono passati in Italia. Dobbiamo pagarle? chiedono i lettori alla redazione. Certamente sì è la risposta, purché non siano più vecchie di un anno e per la precisione antecedenti al 19 novembre del 2021. Prima infatti non c'era l'accordo e potete impugnarle. Se antecedenti risponde sempre Gokar, il sollecito non ha validità giuridica. Pertanto potete non pagare, ma attenzione, la prossima volta che andrete in Italia ve ne chiederanno conto e, secondo noi, li dovrete pagare. Vi salutiamo. Vi saluto personalmente e vi auguro una buona giornata. Ristretto Italiano di Ruggero Po